perché parliamo di una cosa che ho fatto io, cioè un libro che ho scritto un paio d'anni fa, che ha come titolo La trasgressione, e che è stata una specie di studio, se vogliamo, è un racconto fondamentalmente, però è anche uno studio di ciò che può accadere nelle inclinazioni personali di ognuno di noi quando si traggono le conseguenze soprattutto psicologiche da un evento trasgressivo. Qui l'evento trasgressivo è praticamente uno scambio di coppia, parliamoci chiaro, e su questo scambio di coppia si innestano una serie di azioni, reazioni, confusioni, delusioni e decisioni che portano a dei cambiamenti radicali nella vita di ognuno dei partecipanti. Allora, chi prende questo libro in mano, che è un grosso libro perché ha più di 400 pagine, mi pare, no, anzi ne ha 572, quindi è un grosso volume, ve lo faccio vedere, devo fare un po' di propaganda, ecco. Chi prende in mano questo libro si trova dinanzi a due diversi tipi di sorprese, diciamo. La prima parte potrebbe sembrare un libro a sfondo pornografico, diciamo, perché in realtà l'incontro tra due coppie in questo scambio porta a delle descrizioni che possono anche turbare anime serene e caste come forse ci sono tra voi. Io ho un'amica, ad esempio, che è talmente caste, che quando si fa la doccia si mette il costume intero e che non è andata avanti dopo le prime 30 pagine perché era turbata da ciò che leggeva. Il secondo scenario, però, è quello, direi, psicologico, e cioè, consumato l'evento, ognuno torna a casa e ciò che è accaduto lavora dentro ognuna di queste persone e lavora in modo diverso a seconda della personalità di ognuno dei partecipanti. C'è una coppia protagonista, diciamo, che è un po' il filo conduttore del romanzo e c'è una coppia deuteragonista, cioè quella che partecipa a questo evento. Ci sono anche altri personaggi ed altre vicende che si intrecciano con queste quattro persone e poi si arriva ad una serie di sviluppi successivi dovuti proprio al modo con il quale ogni personalità reagisce a questa esperienza. Ci può essere uno che si sente disgustato e abbraccia il monastero, non è così, ma insomma potrebbe essere questo. C'è chi invece è talmente turbato da uscire dalla sua normale quotidianità, da sentirsi improvvisamente diverso. E c'è chi infine scopre nel fondo del proprio inconscio delle pulsioni che non pensava di avere e che poi cerca di realizzare in modo sbagliato, in modo corretto, fondamentalmente queste persone cercano la verità di se stessi, ognuno dentro se stesso, in relazione agli altri, perché si vive poi in relazione agli altri, ma ognuno cerca una sua verità. c'è un personaggio che mi è caro, un personaggio minore, che è una signora separata, con dei figli, eccetera, eccetera, che è sola e che ad esempio cerca uno sfogo la sera scrivendo un po' quello che ha fatto il giorno, fa una specie di diario, ma più che un diario ha una lettera. Una lettera che indirizza, non sa bene a chi, lei immagina che ci sia un editore che amministra la sua vita. Allora lei gli scrive praticamente ogni sera dicendo caro editore, oggi è successo questo, ma tu che cosa hai deciso di fare per me? Io ho questo problema, come lo devo risolvere? Io penso di risolverlo così, però dovresti darmi un segno. L'editore ovviamente non risponde. Questo intreccio di personaggi diversi, questa vicenda di questa signora che scrive al suo editore, ovviamente è una finzione letteraria, mi riporta però ad un discorso molto più serio che non sempre viene compreso. Quando si scrive un romanzo, almeno per quella che è la mia esperienza, si dà vita a dei personaggi, ma non sempre, almeno non accade a me, si ha una trama in testa di come comincia e come finisce una storia. Anzi, in genere, si sa sempre come finisce, non si sa come comincia, al contrario di ciò che si dice. Voglio dire che in realtà, nei dialoghi, nelle situazioni, nello sviluppo dei personaggi, è lo stesso personaggio creato che prende la mano allo scrittore e gli fa fare quello che il personaggio vuole. Non è l'autore che dirige il personaggio, avviene un fenomeno inverso. Una volta creato il personaggio, questa figura diventa quasi autonoma, va avanti per conto suo, sviluppa, con la mano dello scrittore, sviluppa tutta una serie di relazioni, di reazioni, di considerazioni alle quali l'autore non ha pensato e l'autore diventa uno strumento più che essere il deuses machina del personaggio. Questa è una cosa che, almeno per quanto mi riguarda, accade sempre, e cioè il protagonista, il personaggio, poi fa da sé e sviluppa la sua vita in un modo quasi autonomo, quasi indipendente, dalla volontà di chi invece lo ha creato. È una dissociazione. Inteniamoci, non è una cosa straordinaria perché anche Pirandello, sei personaggi in cerca d'autore, eccetera, eccetera, ha creato un precedente, sia pure di tipo completamente diverso. Sono personaggi, quelli di Pirandello, che vogliono uscire nella vita, che vogliono essere reali. I personaggi che escono modestamente dalla mia penna sono personaggi invece che vivono, che vivono e certe volte mi costringono a seguire i loro desideri, le loro evoluzioni mentali, le loro contorsioni e anche le loro confusioni. Finisco, perché poi vorrei dare la parola a chi dovrebbe presentare questo libro avendolo letto. Fondamentalmente questa ricerca della verità, la quale lo devo, nasce dalla solitudine. Questa nostra civiltà occidentale, in questo periodo della storia, è la civiltà della solitudine. Quanto più siamo collegati nel tempo e nello spazio con gli strumenti della tecnica come questo di cui stiamo suffruendo, tanto più avvertiamo la nostra solitudine interiore. E in questa solitudine interiore siamo incerti, sbandati, e allora cerchiamo affannosamente di comunicare. Mai come in questo periodo c'è stata questa cascata, ondata, questo fiume di comunicazioni interpersonali che molto spesso lasciano il vuoto, ma qualche volta lasciano delle tracce profonde. E allora, da una parte all'altra del mondo ci si può incontrare e stabilire delle relazioni che sono impensabili, ma che sono fondamentalmente determinate da questo bisogno di uscire dalla solitudine. E la solitudine ci è imposta dalla situazione pandemica in questo momento, ci è imposta a volte dalla situazione politica, ci è imposta a volte da una separatezza intellettuale con il mondo che ci circonda. E quindi questa solitudine è, se vogliamo dirla tutta, è veramente lo scenario nel quale si muovono questi personaggi. Termino qui e vorrei chiedere a Alessandra Figoli se vuole fare le critiche che lei ritiene e introdurre degli argomenti di dibattito. Io difenderò i miei personaggi se devono essere difesi, se invece sono troppo esaltati cercherò di ridurne il valore. Grazie. Grazie, Stelio. Ti ringrazio tanto. Io ho letto questo libro. Stelio all'inizio ha detto che può essere, si può dire che sia un libro pornografico, in realtà non è così, anche se ha un contenuto erotico molto forte e molto intenso. Ho letto questo libro diverso tempo fa e devo dire che mi è piaciuto moltissimo. L'ho letto avidamente nonostante abbia più di 500 pagine l'ho finito in pochi giorni perché è uno di quei libri che quando lo cominci poi in realtà non riesci a staccartene. Vuoi vedere cosa succede, vuoi seguitare a leggere la storia per arrivare poi al finale. Adesso è un'occasione diciamo di questo incontro l'ho ripreso in mano per rispolverarlo, per rinfrescarlo un pochino perché in effetti le vicende sono tante sono storie complesse. Io sarei dell'idea per facilitare poi il proseguimento del dibattito di raccontare un pochino le storie e di delineare diciamo i personaggi che poi costituiscono tutta la trama del racconto. Poi se gli viene voglia di comprensolo meglio ancora. Sì. Non essere troppo precisi. No, d'accordo. Intanzitutto voglio dire che è una storia sicuramente contemporanea ed è un romanzo fortemente introspettivo nel quale i diversi personaggi sono descritti e analizzati attraverso il loro vissuto ma soprattutto attraverso il loro presente. Il loro vissuto chiaramente condiziona fortemente il loro presente. Le loro vicende si intrecciano e nello sviluppo della storia le loro vite in qualche modo divengono concatenate l'una con l'altra e sono come queste figure sono come dei personaggi su un palcoscenico a mio avviso io potrei dire che sono un po' tutti protagonisti perché ognuno di loro è importante ai fini dello sviluppo della storia però io ritengo che più di tutti il personaggio che costituisce il fulcro del racconto poi il perno centrale attraverso il quale si sviluppa tutta la narrazione è il personaggio di Amy Amy è una donna molto arguta una donna molto intelligente ma anche molto bella molto sensuale e ha la capacità di attrarre a sé l'interesse e la curiosità soprattutto degli uomini è sempre molto ammirata è sempre molto corteggiata è una donna che però ha un passato difficile perché da bambina è stata abbandonata dal padre dallo stesso padre ha poi subito delle violenze carnali si lega molto alla madre nella quale vede la sua unica speranza e la sua unica possibilità di affetto ma la madre in realtà la usa la sfrutta indifferente alle sue tragedie e soprattutto pur consapevole delle violenze che il padre le rivolge non fa nulla per cui ha un primo matrimonio infelice con una persona molto più grande di lei per sfuggire probabilmente a questa situazione familiare finché non non si separa e divorzia ed incontra Sergio che diviene suo marito e con lui ritrova la propria serenità e sviluppano tra loro un legame fortissimo intensissimo un legame che nel libro viene definito sì fisico ma soprattutto mentale questo è importante perché ci aiuta a capire poi il tipo di relazione che c'è tra loro Emi nel libro viene descritta questo mi piace perché l'ho riportato come fragile dolente altera e disperata alla ricerca di se stessa e delle proprie illusioni un passato difficile fatto di violenza con un carico misterioso di angosce e un bisogno infinito di tenerezza Emi è un personaggio che ti entra nel sangue nel cuore e nella mente allo stesso tempo si affacciano nel racconto altre due persone anche loro sono una coppia e parliamo di Clelia e Ovidio a differenza dei primi di cui vi ho parlato Clelia e Ovidio sono due persone sposate da molti anni due persone piuttosto semplici che vivono diciamo una routine quotidiana che li sta portando alla noia per cui pur non conoscendosi ancora sia i primi che i secondi cominciano a entrare su internet e trovano questa possibilità di fare degli incontri degli scambi tra coppie e quindi adesso per abbreviare Emi e Sergio hanno un primo incontro fallimentare successivamente Emi e Sergio incontrano Clelia e Ovidio questo incontro va bene diciamo che le coppie si trovano bene tra loro c'è una certa intesa una certa emonia finché non arrivano proprio ad incontrarsi presso l'abitazione di un amico di Sergio che si chiama Lucio che poi entrerà in scena anche lui successivamente e lì avviene lo scambio di coppie quindi c'è uno scambio fortemente sensuale fortemente erotico e Clelia si unisce a Sergio Emi si unisce a Ovidio il marito di Clelia e lo fanno in presenza di tutti quindi sono tutti perfettamente consci e consapevoli però questo evento che pure hanno voluto per ragioni diverse e che hanno scelto sconvolgerà per sempre definitivamente le loro vite perché da lì in avanti nulla sarà più lo stesso tutto cambierà e avverranno cose anche drammatiche e le loro vite subiranno drastiche trasformazioni finito questo incontro accade che Ovidio il marito di Clelia rimane profondamente turbato dall'unione carnale fisica che ha avuto con con Emi molto diversa da sua moglie prova sensazioni che non aveva mai vissuto e quindi non riesce a togliersela dalla mente e comincia a maturare dentro di sé il desiderio di rivederla ma questo desiderio è in realtà un desiderio ossessivo è ossessionato dall'idea di lei la vuole di nuovo la vuole incontrare non riesce a togliersela dalla testa allo stesso modo su piani diversi Clelia moglie di Ovidio rimane anche lei molto turbata dall'incontro con Sergio perché è un uomo diverso lei aveva soltanto conosciuto il proprio marito non aveva avuto altre esperienze rimane fortemente infatuata da questo uomo e diciamo che attraverso questa esperienza così forte riscopre se stessa si sente diversa vuole affrontare la vita in un modo totalmente nuovo e quindi anche lei entra in crisi innanzitutto con se stessa e poi entra in crisi con il proprio marito che è appunto Ovidio la storia prosegue e piano piano entra in scena anche gli altri personaggi che poi saranno concatenati l'uno con l'altro nei vari sviluppi che le vicende poi mano a mano prendono Ovidio quindi cerca continuamente mi la vuole vedere lei è divertita non si rende ancora conto di quello che poi potrà accadere e lo incontra una prima volta poi lui decide appunto cerca insomma di togliersela dalla testa e in un viaggio di lavoro che compie nel treno incontra Giulia che poi è la persona di cui parlava prima Stelio quella che tiene una sorta di diario e si rivolge appunto a questo suo presunto editore al quale chiede dei consigli ma in realtà è un diario e prova per simpatia per lei e questo forse gli fa credere che possa allontanarsi da Emi ma non sarà così nel frattempo Clelia intreccia una sorta di relazione di attrazione con Sergio il quale è affascinato da questa donna dalla sua semplicità dalla sua dolcezza e hanno degli incontri dove insomma poi ci sono anche dei risvolti personali molto molto importanti le cose vanno avanti in questo modo e adesso non mi dilungo troppo nei dettagli perché ripeto sono 500 pagine e una cosa volevo aggiungere Giulia la persona che Ovidio incontra in treno e con la quale poi avrà una relazione aveva un compagno questo compagno si chiamava Sergio ma con Sergio diciamo stanno insieme da dieci anni e la loro vita ormai è diventata ripetitiva rutinaria noiosa e quindi si lasciano Saverio 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 Sì sì Saverio e quindi si lasciano e Saverio parte per un viaggio notturno per in fondo il tema del viaggio è un tema ricorrente comunque poi nel romanzo e molto spesso i personaggi partono in questi viaggi per ritrovare se stessi e durante questi viaggi alla ricerca del proprio io incontrano altre persone Saverio in questo viaggio notturno approda presso un autogrill dove conosce una giovane donna Alicia e con questa giovane donna poi intraprenderà una vera e propria relazione e arriviamo al fatto diciamo ecladante tragico e drammatico che poi segnerà il il proseguo di tutta la storia Emi crede ormai che la situazione con con Ovidio si sia tranquillizzata Ovidio stesso pensa che sia così perché ha iniziato a frequentare Giulia in realtà è colto da un raptus direi di pura e totale follia e decide che vuole a tutti i costi avere Emi si presenta sotto casa sua suona al citofono sale su entra in casa e in preda ad una rabbia furibonda una follia proprio di assoluta irrazionalità aggredisce Emi e la la violenta le usa violenza Emi ovviamente da questo momento in poi impazzisce perché questa violenza le riapre le ferite del suo passato delle violenze subite dal padre perde completamente la testa ha il timore di essere rimasta incinta e quindi non saprebbe come fare poi nei confronti del proprio marito che sa di non poter avere figli e quindi totalmente distrutta nel corpo e nella mente si chiude in se stessa e rifiuta ogni contatto con Sergio il quale invece è preoccupatissimo non capisce che cosa stia accadendo vorrebbe che lei si aprisse con lui lei non riesce ad esprimere il proprio dramma fin tanto che lui non ci arriva da solo questo scatena una crisi profonda tra i due e decidono per risanare questa loro situazione di partire per un viaggio un altro viaggio dunque che possa aiutarli a superare questo problema da qui in poi non vi dirò poi la conclusione ma Emi si incammina verso il suo destino che come nelle più classiche delle tragedie greche sembra quasi un destino ineluttabile nel frattempo Clelia si lascia con Ovidio e curiosamente insomma stringe amicizia con Lucio amico di Sergio e poi avrà una relazione con lui quindi praticamente viene tutto sparigliato cioè le coppie iniziali diventano poi altre coppie altre vite altre storie altre situazioni è tutto in divenire continuo e tutto questo attraverso un'analisi profondissima di ogni singolo personaggio ogni singolo personaggio viene proprio valutato sfaccettato analizzato nel suo intimo più profondo ci sono delle descrizioni bellissime degli stati d'animo delle sensazioni dei nei dialoghi nelle scelte che ogni singolo personaggio deve compiere nel modo che hanno di affrontare la vita e quindi è un romanzo io direi corale pieno di personaggi a mio avviso tutti i protagonisti in qualche modo la figura più intensa più profonda è quella di Emi che è una figura bellissima perché parliamo di una donna molto intelligente molto molto bella con qualità eccezionali ma allo stesso tempo è una figura tragica e per quanto faccia nella propria vita per cercare di essere felice sembra che non possa in nessun modo sfuggire al proprio destino questo direi insomma mi capi il racconto bravissima bravissima per quanto mi riguarda bravissima e soprattutto apprezzo molto che tu non abbia detto la conclusione certo certo senti a mio avviso io leggendo questo ti volevo fare qualche poi qualche domanda poi naturalmente volentieri molto volentieri io credo che in tutti i personaggi tutti hanno un vissuto alle spalle normalmente dei vissuti comunque di infelicità perché hanno più o meno tutti dei matrimoni che sono finiti sono alla ricerca di nuove esperienze sono scontenti sono soli io credo che tra tutti il filo conduttore che lega tutte queste persone a mio avviso sia l'inquietudine tu che ne pensi? ne sono convinto io infatti dicevo prima nella mia introduzione a questo tuo intervento che è lo scenario della solitudine ma è uno scenario moderno perché immaginando oggi le persone che sono qui che ci ascoltano che si sviluppino delle relazioni fra loro di tipo diverso da quella dell'ascolto e ognuno porta il proprio vissuto il proprio passato le proprie frustrazioni ma anche il proprio bisogno di cambiamento di rinnovamento e ognuno cerca confusamente una strada diversa da quella che hai battuto prima perché evidentemente se cerchi una strada non ti piace quella dove stai o comunque hai esaurito le potenzialità di quella strada oppure l'occasione è talmente diversa è talmente straordinaria che non hai più dei criteri da seguire delle regole da seguire ma cerchi di inventartene delle nuove è la solitudine ma è la solitudine dell'uomo moderno della donna moderna perché ognuno di noi in teoria tutti cerchiamo l'altra faccia della mela crediamo di averla trovata certe volte va bene certe volte ci illudiamo che vada bene certe volte non va bene e comunque c'è questo continuo conflitto tra la realtà interiore ciò che noi vorremmo e la realtà esteriore nella quale viviamo ecco io credo che questo libro ma anche della tua esposizione sia evidente questo contrasto tra ciò che vorremmo e che è possibile non l'impossibile ovviamente ciò che vorremmo ciò che potremmo volere e la realtà nella quale viviamo poi perché questa realtà nella quale viviamo non ci piaccia o non ci piaccia più questo è un altro discorso è un altro tipo di analisi che si potrebbe fare nella quale tutti hanno delle colpe delle responsabilità ma quello che è importante è il fatto che non ci piace più che non ci piaccia più e che nessuno di loro sa riesce ad adattarsi alla realtà in cui vive perché alcune delle realtà descritte potrebbero essere anche sopportabili volendo nessuno di loro riesce ad adattarsi perché in ognuno di loro vive una profonda inquietudine poi diciamo che quell'esperienza diventa il detonatore di questa inquietudine e quindi poi cambia i ruoli cambia i giochi e ognuno poi non riesce più a vivere nei propri panni deve necessariamente cambiare la propria vita è un'esperienza radicale rivoluzionaria assolutamente infatti in teoria la prima coppia di cui tu hai parlato in cui Amy è la protagonista Amy e Sergio sono i protagonisti della storia è una coppia che è molto legata fra loro sono molto legati e allora uno potrebbe legittimamente domandarsi perché hanno bisogno di un'esperienza del genere la seconda coppia è altrettanto legata ma è legata in un tran-tran che è molto comune molto diffuso perché hanno bisogno di questa esperienza allora la risposta è che nel primo caso la coppia legata unita cerca una sfida in questa esperienza e cioè con la trasgressione è riconfermare i propri legami interni cerca cioè di sfidare i pericoli perché noi siamo forti la seconda coppia invece cerca la diversità per ravvivare il rapporto quindi sono portati da esperienze diverse che sono sempre però esperienze di solitudine perché la prima coppia è una coppia legata ma è sola rispetto al mondo che la circonda e quindi ha bisogno di sfide per rafforzarsi la seconda è sola perché si annoiano fondamentalmente e hanno bisogno di un diversivo quindi le ragioni per le quali si arriva allo scambio intendiamoci questo non vale per tutte le persone che fanno gli scambisti in questo caso sono ragioni diverse ma in un certo senso ugualmente nobili e spiegabili ecco al di là di quello che può essere un giudizio di carattere morale di carattere generale insomma certo ho visto poi sempre nello svolgimento della storia che in più di ogni occasione hai usato il tema del viaggio quindi il viaggio inteso come allontanarsi per ritrovarsi infatti Ovidio a un certo punto della storia parte con Giulia dopo la violenza esercitata esercitata nei confronti di Emi decide di allontanarsi perché la realtà è opprimente sta quasi per impazzire insomma non riesce neanche lui ad accettare quello che ha fatto e chiede a Giulia di accompagnarlo in questo viaggio e lei con molta dolcezza gli sta vicino e questo diciamo è il primo viaggio Saverio anche Saverio parte e fa un viaggio fa un viaggio sempre anche lui per allontanarsi e per ritrovarsi perché decide di lasciare Giulia dopo dieci anni comunque di relazione perché è stanco non ne può più non trova più nulla che lo possa che possa tenere in vita questa storia e anche lui parte per un viaggio e in questo viaggio poi incontra il suo nuovo amore diciamo con molte titubanze resti io perché tra loro c'è una grande differenza di età ma poi alla fine se ne convince anche dietro le insistenze di lei e lui si lascia andare in ultimo c'è il viaggio di Emi e Sergio una volta che la verità atroce durissima viene fuori anche loro ritengono di dover partire quindi di lasciare la propria città la propria casa le loro abitudini per allontanarsi nella speranza di ritrovarsi Seneca diceva che è inutile cambiare il posto se tu non cambi il tuo animo io ti volevo chiedere se questi viaggi questi allontanamenti sono metafore chiaramente sono poi utili alla storia ma anche utili ai personaggi e se questi allontanamenti poi danno veramente delle risposte nel romanzo sembrerebbe di sì insomma in un modo o nell'altro anche se portano verso direzioni diverse però sono sono efficaci poi ma il viaggio è una metafora se vogliamo della vita cioè nel viaggio io mi allontano da ciò che non riesco a superare abbandono non è una forma di vigliaccheria ma ad esempio dove è avvenuto un delitto la casa dove è avvenuto un delitto dove è avvenuto un reato almeno per il momento non ci voglio più vivere pensate se vengono i latri vi sveliggiano casa la casa vi sembra una cosa estranea quasi nemica vi dà fastidio e questo avviene in un caso nel caso di Saverio che lascia Giulia dopo dieci anni di convivenza eccetera lì siamo arrivati a un punto di saturazione lui se ne va sa di fare una cosa che non va bene perché avrebbe dovuto dirglielo avrebbe dovuto farglielo capire però vuole evitare lo strazio del confronto anche perché poi lui vuol bene a questa donna solo che questa donna non gli dice più nulla allora se ne va dove va non lo sa va all'avventura si ferma a prendere un caffè chiacchia la collaborista non riesce a fare benzina perché è tardi resta in quella città è uno sbandato se vogliamo ma è un uomo che alla fine della vita e che con questo episodio crede abbandonando questa relazione crede di aver chiuso e invece stranamente ricomincia una storia per lui una storia che non vuole perché avverte tutta la differenza di età avverte il peso delle differenti esperienze però poi viene preso da questa leggerezza che gli viene da un amore incipiente dalla disponibilità di questa giovane donna che vede in lui forse il padre che non ha avuto forse il marito che l'ha abbandonata comunque una guida e che confonde confonde che mescola assieme un sentimento d'amore donna uomo e un sentimento direi di paternità figlia e quindi c'è questa cosa altri viaggi quando Ovidio se ne va dopo la violenza commessa lui si rende Ovidio è una persona normale è una persona per bene se vogliamo è uno di quelli che incontriamo per la strada come la moglie Clelia è una persona assolutamente normale che vengono all'improvviso sbalzati di fronte a degli eventi che hanno prodotto loro stessi ma in modo inconsapevole Ovidio si vergogna non sa che fare che fa lo racconta la moglie che ha violentato un'altra no può tornare da quella che ha violentato che ha lasciato in lacrime no parla col marito di questa qui ma è impensabile che deve fare in realtà fugge fugge ed è talmente solo che non riesce a fuggire da solo e chiede a Giulia fammi compagnia vieni con me ho bisogno di una persona vicina non ci fanno non fanno l'amore lei lo segue perché lei ha una specie di pietà nei confronti di lui e di comprensione ma non è invaghita però gli fa pena e allora si dispone ad accompagnarlo ma in realtà lui fugge ha come dire un assistente un servitore un amico vicino ma non ha una donna dopo la vedrà come donna ma in quel momento lui ha ha bisogno timore di stare con se stesso ecco perché si rende conto la stessa cosa accade con Clelia Clelia è una signora della media borghesia un'eccellente creatura una persona per bene timorata di Dio addirittura va in chiesa e chiede consiglio al prete che devo fare il prete dice figlia mia che hai fatto ma questa non gli può dire io sono stato a letto con un altro uomo perché il prete le chiederà è tuo marito mi dice no c'era anche lui insomma è una cosa improponibile chiaramente quindi questo sfogo nella ricerca di un confronto con l'entità suprema poi finisce è lei che deve dentro maturare questa esperienza e scoprire in realtà di essere diversa che quella bordatura borghese che la circonda non regge è una cosa che al primo ostacolo vero si rompe ed emerge la personalità soffocata che lei aveva per cui poi vede il marito come un essere non inferiore un essere profondamente diverso da lei un essere con il quale non ha più nulla da dire perché lei si è evoluta in un certo senso lui si è degradato in un altro senso e quindi non ci si quindi il viaggio è una metafora della vita è la vita che ci porta a viaggiare anche dentro di noi nella nostra testa perché poi noi viaggi più importanti li facciamo nella nostra testa è vero è verissimo condivido pienamente quello quello che hai detto un'altra cosa che volevo un attimo approfondire con te il personaggio che potremmo dire principale perché comunque quello che ti colpisce di più è la figura femminile di Amy Amy è una figura tragica se vogliamo porta dentro di sé un vissuto spaventoso tenta in tutte le maniere di riaffiorare da questo vissuto tenta di condurre una vita normale ama profondamente questo uomo ma nello svolgimento poi del racconto si percepisce chiaramente che per quanto si impegni e per quanti sforzi faccia la normalità per lei non c'è e non ci sarà mai la sua vita è una difficoltà continua nonostante se il marito la ami però comunque va incontro a vicende terribili c'è una sorta di su di lei di stabilità del fato è come se lei avesse questa macchia addosso dalla quale cerca di sfuggire in tutte le maniere ma non può non può evitarlo ecco tu credi che sia così cioè se si ha un vissuto tragico soprattutto nei primi anni della propria vita questi fantasmi continuano a tornare continuano ad essere ricorrenti quindi non si riesce mai a liberarsi veramente anche quando poi uno trova una condizione favorevole una situazione positiva non può in nessuna maniera prescindere dai propri cattivi ricordi e dai propri cattivi pensieri è così guarda io credo sì è così è così e ti dirò che questa era quando scrivevo una mia sensazione che ho espresso come l'ho espressa che poi ho trovato confermata guarda caso da molte da molte altre vicende avvenute avvenute realmente nel ad esempio nel caso di bambine stuprate dal padre o di bambini e soprattutto nel caso dei preti pedofili quando le vittime che hanno 40 anni 50 anni confessano davanti al magistrato nelle inchieste che si sono succedute negli ultimi tempi che quella esperienza ha modificato radicalmente la loro vita cioè se la portano appresso non riescono a superarla Emi ha una doppia condanna è bella e quindi attira gli uomini è bella e questa bellezza per lei è fatale perché ogni volta che un uomo si accosta a lei se non c'ha una grande forza d'amore quest'uomo la riporta indietro al momento in cui attraeva il padre o attraeva il dentista o attraeva le persone con cui aveva a che fare quindi questa sua bellezza così così intrigante unita alla sua intelligenza alla sua vivacità diventa un fattore di rischio cosa che non è invece per Clelia che è una donna assolutamente normale una bella donna come tante ma che non ha vissuto questi momenti li vivrà dopo ma li vive non avendo una tara precedente così grave così forte come quella delle attenzioni del padre e delle colpevoli disattenzioni della madre che lì c'è una coppia malefica all'inizio che determina questa deviazione profonda nello spirito della protagonista quindi sì è una nemesi è una figura tragica è una figura intrigante quello che si vuole ma una figura tragica che non può sfuggire al proprio destino in nessuna maniera no perché se fosse brutta la eviterebbero allora se lo scorderebbe essendo bella ogni ogni approccio per lei la riporta indietro e il fatto che l'uomo con cui vive sia riuscito a penetrare nella sua corazza difensiva è perché quest'uomo l'ama non vuole portarla a letto l'ama e lei percepisce questa diversa carica affettiva che non è solo una carica sensuale ma è una carica emotiva quello lo percepisce perché non c'è abituata ecco perché tu leggevi bisognosa di tenerezza eccetera eccetera perché è quello che le ha mancato lui la ama profondamente infatti tu lo dici nel racconto lui la ama sì in modo fisico ma il loro è anche un amore mentale quindi è un amore totalizzante è una visione sì molto bella la descrizione di questo personaggio io l'ho trovata come di tutti del resto però quella che mi ha colpito di più è lei l'ho trovata molto molto profonda molto bella ripeto è un libro che lo leggi di pagina in pagina non riesci proprio a lasciarlo vuoi andare avanti vuoi vedere cosa succede vuoi vedere vuoi capire il dipanarsi della storia no? ti attrae ti attira in un modo quasi quasi magnetico direi io ne sono rimasta veramente molto molto colpita è una storia dicevo all'inizio contemporanea è una storia dei nostri giorni si parla di internet di scambi e ti sei ispirato quindi al al reale diciamo no? assolutamente a cose che accadono cioè sono storie vere vere assolutamente assolutamente sono storie vere e sì tra l'altro tra l'altro scusami molti dei personaggi li ho conosciuti alcuni sono quindi sono veramente reali alcuni sono veramente reali deformati certo ovviamente ma alcuni sono sono reali e invece ti volevo domandare questa è una domanda un po' maliziosa io mi sono fatta una piccola idea però volevo confrontarmi con te ci sei tu tra questi personaggi c'è qualcuno che in qualche modo io mi sono fatta è certo è certo che c'è anche qual è il personaggio che lui il personaggio del primo è Saverio ecco ecco anche io mi ero fatta questa idea non tanto in quello che accade ma perché ti somiglia in qualche modo ti somiglia nel modo di pensare nel modo di vedere le cose nelle riflessioni molto profonde che fa ecco anch'io mi ero fatta un pochino questa idea volevo da te una conferma tutti i personaggi hanno un po' di meno perché è chiaro che chi scrive ci mette se stesso in varie situazioni siamo sempre noi dentro e ti dirò che di tutti questi personaggi forse ecco Saveri è quello che più mi assumì ma anche Lucio anche Lucio diciamo metà giovane Lucio meno giovane è Saverio ecco è vero è vero Lucio mi ha spiazzato moltissimo mi ha spiazzato moltissimo quando chiede a Clelia della quale si è ovviamente innamorata le chiede di sposarlo e lo fa al telefono vuoi tu sposare me telefonante c'è quel pezzo che è molto e anche lei rimane molto colpita però poi si rende conto che il suo destino è quello la sua vita futura sarà quella mentre si sta ricostruendo mentre ancora raccoglie le ferite diciamo della sua separazione da Uvidio ha una grandissima intenzione di ricostruire la propria vita di trovarsi un lavoro di rendersi autonoma di rendersi indipendente continua a pensare in qualche modo a Sergio del quale sicuramente è ancora imbaguita ma entra in gioco Lucio che la spiazza e si rende conto in maniera molto razionale devo dire si rende conto che con Sergio non ha un futuro che invece Lucio può rappresentare la sua serenità anche perché anche perché Sergio è il suo sogno diciamo esatto Lucio è la realtà e Sergio è bene che rimanga un sogno perché lei ha vissuto questa esperienza per lei straordinaria al di fuori del normale al di fuori del comune un'esperienza intensissima ma è bene che rimanga un sogno perché poi se fosse andata avanti a mio avviso se fosse diventata una realtà si sarebbe in qualche modo guastata si sarebbe in qualche modo sporcata anche con poi le vicende della vita che inevitabilmente consumano anche le relazioni migliori e quindi rimarrà per sempre lei un sogno e rimarrà lei lo chiama il suo demiurgo perché lei è come se l'avesse avviata verso una nuova vita è come se fosse una sua creazione lui che le ha fatto capire che la vita può essere altro che può essere vissuta diversamente che lei non è una sempliciotta come viene definita continuamente ma è una persona intensa intelligente di grandi valori di grandi sentimenti e quindi da lì in avanti prosegue la sua vita in questo modo io ti volevo chiedere ma quali sono i personaggi vincenti e quali sono i personaggi perdenti di tutto questo racconto Emi Emi è il personaggio perdenti No? Sì Purtroppo sì Anche anche Sergio Sì Beh comunque Alessandra sei stata bravissima guarda complimenti veramente sei stata molto brava adesso io vorrei chiedere se qualcuno è rimasto incuriosito interessato ha delle domande da farmi o se qualcuno ha avuto l'occasione di leggere questo romanzo per chi fosse qualcuno ha letto